All'indomani dell'esibizione di Valerio Scano sul palco del Festival di Sanremo 2016, arriva una curiosità sul videoclip che accompagnerà il brano presentato all'Ariston, Finalmente piove. I protagonisti del video sono infatti una coppia d'eccezione ben conosciuta agli appassionati di gossip. Cecilia Rodriguez e Francesco Monte. Finalmente piove e il suo rumore non se ne va barra ma le mie parole le puoi capire barra senza dirtele in faccia barra le ho riflesse negli occhi barra le ho descritti. Negli attimi più ingenui di una storia che sta per finire. Le parole della canzone portata al Festival da Scano risuonano da una serie di schermi televisivi, mentre va in scena lo scontro tra la sorellina di Belline e l'extronista, innamorati in lite. Questa una scena del video diffusa sulla pagina Instagram di Monte, ben lontana della realtà, dal momento che la coppia sta pianificando le nozze. Scano è alla sua seconda partecipazione a Sanremo, dopo la vittoria nel 2010 con per tutte le volte che è... In mezzo non ci sono stati solo tre album, ma anche la consacrazione come personaggio televisivo grazie a tale quale show e l'isola dei famosi. Non è stato però Conti, conduttore di tale e quale, a raccomandarlo, come ha tenuto a precisare in un'intervista di qualche giorno fa. Se fosse stato così, mi avrebbe chiamato anche l'anno scorso, quando ho partecipato la prima volta. Mi ha scelto perché finalmente piove un bel pezzo, con un testo che ti prende subito ma che non è scontato. E pensare che la pioggia, quando ero l'isola dei famosi, proprio non la sopportavo. La canzone è inclusa nell'omonimo album, in uscita il 12 febbraio 2016. Chi se ne frega!